Intel torna alla carica, potrebbe essere finalmente il loro momento. Stanno arrivando le nuove X870 e AMD ha appena dato un bel boost a portatili e handheld del futuro. Queste e altre notizie nel nuovo episodio di More The News. Allora, ci sono tante cose riguardo Intel di cui parlare perché effettivamente ragazzi stiamo parlando di un cospicuo numero di notizie che uscite questa settimana, qualche ricco, qualche annuncio, cose così, ma questa parte la vediamo più avanti nel video. Per adesso iniziamo da un Nvidia che ha rilasciato una nuova scheda video. Sto parlando della RTX 4070 però in versione GDDR6 che avevamo visto qualche episodio fa di More The News che è stata testata contro la versione GDDR6X e secondo WCCF Tech, riportato però da Videocards per comodità, c'è una differenza prestazionale nella produttività tra lo 0.7 e lo 0%, pressoché identica con una media dello 0.2. Ragazzi, chi ne fa sti siti? Chi è che ha avuto l'idea che questo pop-up fosse nel punto giù? Cioè, sta coprendo i risultati. Guardate qua, sta coprendo la media del 1080p, lo so cos'è, dai, basta fare così, però dico... Perché? Perché? Vabbè, comunque, come potete vedere, nell'ambito del gaming invece le differenze ci sono, sono un po' più marcate. Per esempio abbiamo un 4.8% di differenza per quanto riguarda, per esempio, 1440p di Alan Wake al massimo in raster, oppure ci sono anche giochi in cui non c'è effettivamente differenza. Ovviamente nessun titolo vede la scheda video salire sopra, in termini prestazionali, alla versione GDDR6X. Il caso più critico è invece quello di Metro Exodus, dove si raggiunge un 89.6%, cioè una differenza di circa il 10%. La media totale, comunque, come potete vedere, è aumentata particolarmente tanto da tutti questi risultati 100%, però è una differenza finale dell'1-2% totali. Quindi interessante. Qualora il prezzo di questa scheda video fosse invitante, sarebbe sicuramente un prodotto apprezzabile, magari per build di fascia un po' più bassa. Per il resto, nient'altro che una manovra di Nvidia, probabilmente per consumare contratti, o comunque utilizzare parti di cui erano già in possesso, minimizzare i costi e aumentare i margini. Passando invece ad AMD, c'è una notizia veramente molto interessante. La FMF, AMD Fluid Motion Frames, tecnologia che permette l'accesso all'upscaling e alla frame generation dell'FSR, senza implementazione da parte dei developer direttamente dal driver, è ora disponibile anche sui nuovi processori da portatile Ryzen e i300, che potremo poi vedere anche in corrispettivo su possibili handheld, o comunque condividere parte di questa tecnologia anche su quello che potrebbe essere il futuro Z2 Extreme. Per quanto riguarda le prestazioni, c'è diciamo il culmine con questo Cyberpunk 2077, che incrementa fino al 78% su un HX370, questi nomi io continuo a condannarli ad AMD, sono veramente fastidiosi. Si passa da 56 fps a fino a 100, ovviamente vuol dire che potrebbe essere 58 in un momento e 100 in un altro. Il tutto utilizzando in 1080p il preset Low-Pon, l'FSR bilanciato. Cosa positiva, perché vuol dire che non sono scesi alle performance, che invece è un po' più aggressivo sulla grafica. Situazione decisamente più interessante però per quanto riguarda il contesto del gaming, come potete vedere qui, 2880x1800p, che è una risoluzione decisamente più alta del classico 1080p, e utilizzando un preset medio e l'FSR bilanciato su una i9 HX370 a 28W, grazie alla FMF giochi come Far Cry sono in grado di girare in maniera discreta, più che buona, a 78 fps. 80 per quanto riguarda Formula 1 2023, Guardian of the Galaxy a 64, sì, non sono giochi nuovissimi. Horizon Zero Dawn, il titolo precedente a Forbidden West, a 66. Impressionante però che possano farlo a una risoluzione così alta, questo vuol dire che su un handheld scalerebbero nettamente meglio, prestazioni molto valide. Situazione ancora migliore invece in 1080p, dove si arriva fino a 91 fps, 90, 106, 105, sempre con gli stessi tre giochi, onestamente. Il guadagno è importante, ricordatevi semplicemente che con questo tipo di tecnologie è vitale, proprio vitale, partire da una buona base di fps, quindi 50, 60 sono l'ideale proprio di utilizzare la frame generation, oppure lo starter, e comunque le esperienze in generale saranno notevolmente peggiori. Sempre rimanendo nell'ambito di AMD, vi ricorderete, se siete abbastanza veterani del PC gaming, che sette anni fa è stata rilasciata una generazione di schede video, ovvero Polaris 500, eredi delle 400, che già si presentavano come delle schede video al tempo poco distaccate, ma che hanno fatto un po' la storia del PC gaming, perché tra il costare poco, tra essere le uniche schede di AMD, tra il fatto che c'è stata la crisi prima del mining, poi del mining, poi del mining, e poi del covid, e poi del mining, effettivamente queste schede video hanno fatto un po' la storia, 580, 570, 590, tant'è hanno fatto una storia che Paioz ha deciso di rilasciarle di nuovo. Io pensavo che avessero sbagliato a fare la news su Tech Power Up. Signori, l'RX 580 White, nel 2024, design, ma che poi mi fa ridere come scrivano, pensato per un'esperienza 1080p, smooth, liscia, proprio facile, bella, ed è il modello da 248 stream processor. Sapete cos'è il modello da 248 stream processor? La scheda video gattino. È pressoché una 570, nemmeno una 580. Non è il modello completo della 580, è quella che performa poco più di una 570. Nel 2024, Biostar! 24, non 17. 24. Questa scheda video faticava in Call of Duty Cold War a fare il 1080p a minimo. Nel 2019, 2020, quant'era? 2021, non lo so. Cosa avete in testa? Bello! Il mercato cinese lo apprezzerà, ne sono sicuro. Sempre rimanendo nell'ambito di AMD, dobbiamo però parlare invece di qualcosa di positivo. Le X870, le nuove schede madri, stanno arrivando per supportare la generazione 9000. Generazione disastrosa, devo dire, quindi immagino che anche le schede madri non è che venderanno tanto, però vediamo un pochettino delle novità. Per quanto riguarda le schede madri, MSI annuncia che le loro saranno le prime a supportare l'ATX 3.1 delle loro line-up. Qui ci sono alcuni esempi, fino alla Godlike, passando per la Tomahawk P6 5.1 e ATX 3.1. Differenze effettive, come potete vedere, più che altro la potenza erogata dalle porte per le singole componenti periferiche. Per quanto riguarda la scheda madre, arriviamo a 168 Watt, per quanto riguarda le porte singole della CPU, fino a 252 Watt, e in realtà la cosa impressionante sono le ventole che fanno 132 Watt, massimi, e 36 per quanto riguarda invece gli RGB, più 66 e 165 di picco, molto di più della situazione attuale, per quanto riguarda invece la parte della PCI. Questo è lo standard ATX 3.1 in soldoni. Le nuove schede madri dovrebbero arrivare il 30 settembre, quindi preparatevi che sicuramente porterò dei contenuti a riguardo, vi spiegherò bene le schede madri per almeno un paio di brand, così da, insomma, fare un po' il punto della situazione. Per quanto riguarda invece Intel, passiamo a parlare del brand blu. Ora, prima di tutto abbiamo un tot di brand che stanno effettivamente registrando i nomi delle proprie schede madri, per esempio qui abbiamo un articolo che ci riporta che Asus e Gigabyte registrano le loro Z890 per il lancio di ottobre. Lancio che effettivamente, come ci riporta Mordentech.it, è stato rilanciato, soprattutto appunto quello dei processori stessi, che dovrebbero uscire coincidentemente alle schede madri, ed effettivamente dal 10 ottobre che si prospettava si è passati al 17 e infine adesso invece si parla del 24 per il rilascio di processori e schede madri insieme. Ovviamente in questo caso non le possono separare perché è vitale avere la scheda madre se no non funziona, in quanto ci sono un tot di cose nuove, tantissime. Prima di tutto cambiano i nomi, come potete vedere Core Ultra 200K, sarà Arrow Lake S, in uscita il 24 ottobre. Ora, qui abbiamo un pochettino dei nomi delle Z890 che l'accompagneranno. Ci sono nomi classici, l'Extreme, la formula, l'Apex, l'Apex & Core, che sembra essere una versione più potente, Hero e Dark Hero, e Hero BTF, nuovo formato con appunto i backconnect cavi sulla zona posteriore, molto interessante. Per quanto riguarda ROG, gaming wifi, gaming wifi, sempre A, E, F, A, H, e poi la I, che è la ITX. E infine per quanto riguarda TUF, vabbè abbiamo la Pro, la Plus e la BTF, anche in questo caso, molto interessante. Linea AYW, mai sentita in vita mia, ne abbiamo due modelli, Prime con una caterva di roba, tra cui oltretutto un modello micro ATX, anzi due, wifi è normale, se non sbaglio, questa più o meno rappresenterà la fascia, diciamo, media. Pro Art Z890, Z890 invece per la Pro WS, che è quella per Workstation, e non capisco perché in questo caso abbiano sottolineato wifi 7 in questo, non vorrei che ci fosse una divisione tra wifi 7 e wifi 6, così larga da aver bisogno di segnalarla. Dovrebbero essere tutte wifi 7, però non mi piace questa segnalazione. Aorus invece la cosa che più che altro mi fa strano è che ci sia una distinzione per esempio tra l'Aorus Master e l'Aorus Master AI Top. Tachyon, ICE, e sopra Extreme, AI Top. Wifi 7, Wifi 7 ICE, che è la versione bianca, Elite X ICE, c'è un grande attenzione alla versione ICE, che sono quelle bianche, dovrebbero essere i segnali di quelle bianche. Wifi 7, Wifi 7 ICE, interessanti, in questo caso abbiamo due micro TX, oltretutto in due colorazioni, una ITX, onestamente servizio interessante, sono curioso di vederle. Oltretutto pochi minuti prima che iniziasse a registrare questo video sono state leccate le specifiche finali per quanto riguarda Intel Core Ultra e adesso le andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda la line-up, come potete vedere, i nomi sono diversi, non siamo più di fronte ai 9 14.900K, ma abbiamo un Core Ultra 9 285K, poi probabilmente farò un video sulle nomenclature perché serve di rifresciarle un pochino. Cosa notate a primo acchitto? Cosa notate proprio guardando così? Io una cosa molto importante la noto, cioè che ci sono sia i P-Core che gli E-Core, questo è vero, la configurazione è simile a quella delle generazioni precedenti, se non direttamente uguale, abbiamo per esempio i corrispettivi degli E5 che sono sempre dei 14 Core divisi 6 più 8, 8 più 12 per gli E7, e per quanto riguarda invece i 9 abbiamo 8 più 16. Sembra che io stia dicendo i 9, i 7, bla bla bla, ma sto dicendo i 5, i 7, i 9, separati, è un articolo, non è un nome. Però se lo notate effettivamente i threads non raddoppiano sui P-Core, abbiamo esattamente gli stessi thread per il numero dei Core, hanno eliminato l'hyper-threading, che in realtà, metto le mani avanti, potrebbe essere una cosa molto positiva dal punto di vista prestazionale, portando effettivamente a un incremento, soprattutto nell'ambito del gaming. Staremo a vedere su questo come poi si posizionano. Cache, per quanto riguarda il totale, devo dire comunque piuttosto copiosa, frequenze fino a 5.7 GHz con il TVB, 5.7 GHz è un TDP massimo di 125, con però un Intel Core Ultra 7 e Intel Core Ultra 9 che arrivano fino a 250 Watt, 159 invece per quanto riguarda i 5. E ok, frequenze degli Core interessanti, devo dire, sembrerebbe che ci sia del lavoro di rilievo sotto questo punto di vista, ma soprattutto vi ricordo che questa sarà la prima generazione di Intel lato desktop con un design a chiplet. Esattamente come visto su AMD negli ultimi anni, questo potrebbe portare a delle interessantissime novità e differenze rispetto alle generazioni precedenti. Oltre a questo, c'è anche da dire un'altra cosa molto importante. Questa generazione ha la collaborazione per quanto riguarda la litografia di TSMC, cosa che dovrebbe migliorare nettamente il lavoro sull'efficienza che Intel può fare su questi processori. Mani avanti, abbiamo visto i Turbo Boost arrivano fino a 250 Watt in questo primo leak, bisogna vedere il rapporto d'efficienza. Cioè, se per questi 250 Watt io guadagno una percentuale sostanziale di FPS o di tempo di render o cose del genere, insomma, qualcosa di sensibile, ha senso che sia così. Poi dipende anche dalle temperature che ne derivano, ma l'efficienza energetica sta prendendo un valore sempre più importante nel mercato globale. E questi processori sembrerebbero essere in linea con l'esatta filosofia che Intel ha imposto sugli Intel Core Ultra Mobile. Quindi di per sé sono molto molto curioso. Soprattutto più che altro per la fascia bassa, quelli che magari non saranno gli Intel Core Ultra, ma gli Intel Core e basta, per vedere dove si possano spingere quelli che sarebbero i corrispettivi lisci, cioè quelli senza la K, come nelle generazioni precedenti solitamente vengono annunciati a gennaio assieme alle schede madri di fascia più bassa e media. Arrow Lake potrebbe essere finalmente la spinta di Intel che dopo due generazioni così così che comunque tenevano botta, ma insomma non hanno rappresentato soprattutto con gli ultimi scandali un qualcosa di incredibilmente diciamo valido, un qualcosa di cui il mercato potesse fruire a lunghissimo termine, Arrow Lake sembra essere quello che possa fare la vera svolta. Un po' come la differenza se c'eravate al tempo tra gli 11.000 e 12.000 dove Intel ha veramente tirato sberle al mercato con quei processori. Il 12.600K e il 12.900K che oltretutto abita ancora il mio PC lì dietro, sono stati dei processori veramente di rilievo e sono curioso di vedere una soluzione simile. Specialmente sono curioso di vedere come hanno gestito la parte interna per quanto riguarda l'architettura in termini di latenze se l'hypertrading effettivamente migliora la questione delle prestazioni quanto si distaccano dagli X3D che effettivamente continuano a essere però dei processori notevoli nell'ambito del gaming ci sono una marea di domande vedremo Intel vai per favore ho bisogno di concorrenza prima che mi alzino ancora al 7800XRD a 500 euro sta continuando a aumentare incredibile 7800XRD da quando sono usciti i 9000 decollato in tutto il mondo ovviamente vista l'assenza di concorrenza ragazzi mamma mia quando lo capirete ultima cosa su Intel un distributore di Hong Kong ha finito i 14900K l'inventario di 14900K che stavano utilizzando come cuscinetto per attutire tutte le richieste di ricambi e di sostituzioni che effettivamente arrivano verso di loro e a questo momento come potete vedere stanno effettivamente offrendo un rimborso di 4200 dollari di Hong Kong che sono circa 500 e qualcosa euro che effettivamente sono il più o meno prezzo del luogo per quanto riguarda il processore hanno finito le scorte questo vuol dire che c'è stata una grande richiesta o che loro avevano delle scorte esigue però essendo Synex non proprio piccolino mi fa pensare che ci sono state tante richieste parlando con Intel non so se posso dire i numeri ufficiali che mi hanno detto però effettivamente loro hanno dei casi documentati bassi non esigui cioè nel senso qualcosa su cui ti devi movimentare per risolvere ma al tempo stesso non qualcosa che infici completamente la generazione sto sperando che appunto i loro dati siano i più veritieri possibili non è vero ho mentito non era l'ultima cosa su Intel abbiamo anche la possibilità da ASRock che queste nuove Z890 arrivino fino a 9000 megatransfer al secondo 9000 MHz per i profani ci riportano che effettivamente delle DDR5 con un singolo DIM per channel e un rank possono arrivare fino a 9200 MHz ovviamente probabilmente sarà inutile cioè il guadagno effettivo sarà tipo del 2% rispetto alle 6000 o 7200 MHz però effettivamente è un profilo interessante da vedere cioè nel senso la scalabilità delle RAM inizia a diventare alta anche per le DDR5 questo è come abbiamo presentato l'articolo sul nostro sito arriveremo davvero over 9000 con Vegeta siamo delle persone nate prima degli anni 90 si vede cioè non io però il mio redattore è nato prima degli anni 90 si vede e queste ragazzi erano le notizie per quanto riguarda la settimana fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate giù nei commenti like, commenti e iscrizioni sono sempre super graditi per supportare questo canale e far circolare il video ad altre persone grazie all'algoritmo magico il signor l'algoritmo vive di commenti, like e iscrizioni comunque ad ogni modo noi ci vediamo al prossimo video voi state su Marden Tech Salamusa